Ci siamo tutti? Sono le nove passate e non abbiamo ancora iniziato la riunione. Io ci sono. Anch'io. State immettendo il numero di conferenza. Scusatemi, ho avuto un problema con la linea, ma ora è a posto. Presente. Immettere il vostro numero di conferenza... Sono qui, ma vi sento molto male. Ragazzi, vi ho già detto mille volte che se non mi dite la città faccio confusione tra le voci. Roma presente. Parigi presente. Mumbai presente. Londra presente. Francoforte presente. Toccolma presente. Bene, aprite tutti il file di... Excel che vi ho mandato ieri per email. Scusatemi, in realtà quello che ho ricevuto è diviso per venditori. Mi dispiace rimandarmelo, non lo trovo più. Easy meeting. We move ideas, not people. Bello. Bello. Grazie a tutti.